E' ormai tutto pronto per il 19esimo Film Festival della Lessinia, una rassegna che attraverso film e documentari dedicati al mondo della montagna, le sue usanze e i suoi costumi, richiama un numero sempre più alto di partecipanti e di giovani. E' incredibile come la vita in montagna tocchi le corde delle passioni, dei sentimenti e dei desideri di molta gente che probabilmente qualcuno vede un luogo idilliaco ancora dove poter sognare di vivere qualcun altro scopre una montagna diversa che non è la cartolina, il personaggio tipico e la cosa bella è vedere quanti giovani vengono al festival per vedere film che i cinema non mostrano, che le televisioni ignorano che si possono vedere soltanto al festival. Le opere in concorso provengono da una trentina di paesi del mondo così come internazionale, è la giuria che li valuterà. Quest'anno ho un'esplorazione che ci porta a conoscere le realtà difficili e anche drammatiche del vivere in montagne e in terre lontane perché nei 66 film che da un anno andiamo a cercare nei festival di tutto il mondo abbiamo trovato storie di persone che vivono sulle montagne cinesi dove le cave d'amianto avvolgono di fumo nerastro ogni cosa, famiglie indonesiane che lottano contro e devono fronteggiare i cambiamenti climatici che mettono a repentaglio i loro raccolti storie della fatica di vivere in montagna che però ci mostrano luoghi sconosciuti ci portano a fare un viaggio che è un viaggio della mente, dei sentimenti e della conoscenza. Accanto alle proiezioni numerose iniziative culturali e incontri. A parlare dunque saranno le immagini ma anche le esperienze, le testimonianze, la musica e i libri. Le tradizioni sono da sempre il centro tematico del nostro festival e se pensiamo che sono più di 600 ormai i film che in 19 anni abbiamo presentato in Lessinia che raccontano di stili di vita, usanze diverse sulle montagne del mondo possiamo dire che il festival è ormai una vetrina internazionale che diventa anche possibilità di approfondire, di studiare. Quest'anno noi inaugureremo l'archivio digitale che raccoglie tutte le opere presentate dal 1995 in poi che sarà consultabile online e diventerà per tutti gli appassionati di montagna il luogo dove andare a conoscere la montagna.